Se la camorra fosse un oggetto? Un ombrello per chi ripara e lo puoi usare come arma allo stesso tempo. Se la camorra fosse un gioco? Guarda i ladri. Se la camorra fosse una frase? Resta a sparare mucca. Se la camorra fosse un alimento? Peperoncino, ti fa male? Cosa è la camorra? Una batta di pistola. Cosa è la camorra? Un buco nero perché una volta che ci sei entrato non c'esci più. Se la camorra fosse un oggetto? Una pistola. Un cortello. Un'arma. Una carta sporca. La droga. Un terremoto. Un terremoto. Perché pagare il troppo? Se la camorra fosse un gioco? Guarda i ladri. Un terremoto. G.T.A. Palla avvelenata. Guarda i ladri. È a scopo perché non dimenticare la testa. Yakuza. Perché? Perché parla della Yakuza, la mafia giapponese. Se la camorra fosse una frase? I suoi forti. E ti fa venire. Taggiaci. Ma ma va, va da ci. Sta senza venire, che ti ha demorato la stessa. La vita non ti spara molto. Non mi sceglie, ti spara molto. Al fine am firmato, la tua mandata muore. Quando parla con me, mi ha parlato con le spenze. Non ti spara molto. La vita non ti spara molto. Se la camorra fosse un alimento, se la camorra fosse un alimento sarebbe l'hamburgher, perché è troppo giusto morte, la carne è morta. La banana, perché è storto, la pipola, perché non mi piace, la melà di bianconeve, perché facciamo un incendio, mi faccio una casanza, perché è buono, la marola, perché fa l'usano, la varigina, perché mi piace, con le candele, come una gnaz, E' così bello, perché è così bello, sofferto come faccio noi. Un keballo, perché? Perché è pieno di roba e fa male. Il ketchup. Perché? Perché ha il colore del sangue. Cosa è la camorra? La camorra è fame di soldi. Mamma, quando vuoi? Un film maledetto. La camorra è una cosa brutta, che fa morire le persone, è tutto brutto. È una tarantella. E' una cosa bruttissima. E' una camorra. Sangue spazio. Una botta di pistola. La camorra è una storia. Un virus. Perché infetta un sistema funzionante. Se la camorra fosse un oggetto? Un vaccino, perché fa male ma serve. Cos'è la camorra? La camorra è uno stato di guerra.